Ci racconti la sua avventura in Spagna e come andate e perché siete stati lì? Siamo andati perché c'è un fatto che ci accomuna, un fatto anche tragico, terribile, il naufragio del piroscofo Utopia che nel 1891 trasbordava tante persone del sud Italia, tra cui anche sei cittadini di buon abitacolo verso le Americhe, quindi quella fase di grande emigrazione del sud Italia verso le Americhe, e arrivati lì allo stretto di Gibilterra, questo piroscafo a causa del mare grosso naufragò e morirono oltre 580 persone, quindi veramente una tragedia immane, che per loro cittadini della linea ha un senso ancora più forte perché avvenne lì, nelle loro coste, e tanti pescatori di la linea si prodigarono nottetempo durante un mare tempestoso, però per aiutare i poveri malcapitati e addirittura morirono più di 30 pescatori di la linea. Nei giorni in cui siamo stati lì abbiamo reso omaggio al monumento che stiamo vedendo e che è proprio il monumento che la linea ha voluto dedicare alle vittime di quel naufragio. Alla luce di questa esperienza personale, che cosa si sente di dire alla politica nazionale rispetto al problema migranti? Non bisogna essere ipocriti, c'è una ipocrisia eccessiva nel trattare questo argomento e che è anche molto condizionata da fattori economici. Dobbiamo considerare sempre che il vero capitale non è quello economico, ma è sempre quello umano perché la vera ricchezza dell'umanità sono le persone, non i soldi.